Allo stadio municipale Lombardo Angotta, il Messina di Oberdan Biagioni non va oltre il pareggio contro il Marsala del tecnico Vincenzo Chianetta, terza forza del girone I del campionato nazionale di Serie D. Un pareggio scialbo che condanna i giallorossi a restare al terzo-ultimo posto in classifica. Dopo cinque minuti, al primo vero squillo, il Marsala è passato un vantaggio. Francesco Bonfiglio, lesso a sfruttare un disimpegno errato del centrocampo peloritano, ha superato Sambigni e battuto Jairo con un tiro lento ma preciso. Reazione sterile dei giallorossi, con un Marsala solido in difesa e mortifero nelle ripartenze e che a più riprese ha sfiorato la rete del raddoppio, primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. Nella ripresa il Messina entra in campo con un piglio diverso, al ventesimo calcio di punizione per i giallorossi, incertezza del giovanissimo estremo difensore del Marsala Giappone, con il solito Pietro Arcidiacono che di rapina insacca la sfera in rete pareggiando i conti. È evidente passo indietro dunque da parte dei biancoscudati rispetto alle ultime apparizioni, con il neote accante Marzullo che ancora deve adeguarsi ad un altro tipo di calcio, l'attesa per il centravanti guineano Baldè e alcuni meccanismi ancora da ruotare. Ma il tempo è poco, in calza è la classifica e in questo momento condanne peloritani ai play-out. Domenica prossima i giallorossi ospiteranno la cittanovese, che ieri a sorpresa si è imposta sul Bari con il risultato di 3-2. Sarà l'ennesima opportunità per compiere una svolta, in una stagione, l'ennesima, disastrosa per il calcio messinese.